ciao ragazzi bentornati per la puntata più importante del nostro canale fino ad ora abbiamo 1998-99 serie 1 skybox di nba oops questo è il pacco più vecchio abbiamo mai aperto all'epoca io ero suonato nel 98 luca invece nel 95 quindi aveva tre anni si può trovare tantissima roba sicuramente ci interesserebbe trovare michael jordan e cobi sicuramente oltre a tutti gli altri rookie di quell'anno la e come potete vedere qua redemption cards che scadono a giugno primo giugno 1999 quindi speriamo di non trovarle e trovare direttamente la carta sarebbe un peccato edizione limitata potete vedere anche voi il pacco com'è come vecchio anche quella classica è solidissima cioè questo è il pacco fine starting five basic cards e cinque solo cinque prodotte vi portiamo proprio una chicca oggi quindi esatto qua vedete il set di quante carte si tratta e quello che si può trovare è in dinumerato autografi una una torta ogni 144 pacchi quindi abbastanza raro noi abbiamo 24 da 12 cartello 1 quindi vediamo qua facciamo il video così una volta che abbiamo aperto abbiamo tutto registrato e niente andiamo let's go e speriamo bene si speriamo di trovare qualcosa di epico magari sono tutte incollate esatto quindi bisogna stare attenti infatti anche già ad aprirlo abbastanza delicato la carta è un po spaccata sicuramente originale si un po rotto qua questo ti tira su e guala questi sono i pacchi guardate il pacco dentro ragazzi è sporchissimo assurdo qual'era quello che c'era la checklist proprio anche quello era 2010 2011 mi sembra ups questi mi sa che vediamo se riusciamo a aprirli a 1 a 1 senza usare la forbice però questo è il primo pacco ma questo è il pacco ragazzi scusate ve lo faccio vedere tacchi e qua vedete quello che si può trovare ok carta base le carte sono incollatissime lo dico già ok ok questa è la carta base corey blount in questo caso vedete come sono rimaste attaccate speriamo di trovare non con un michael jordan così cavolo marzo sgambi patrick ewing andiamo molto delicati perché come è tipo una foto eh sì è tipo per questo che poi tutti questi anni rashid wallace beh gli dà un effetto vintage vintage assolutamente tipo il filtro esatto randy brown abbiamo shot house mi sa che è una l'inserto non è attaccato no questa è l'unica cosa che non è attaccato è uguale shot house di tim thomas bella carta per quanto costa il pacco se esatto speriamo di tutte rovinate non è il massimo michael finley abbiamo carrie kiddard clan reese e danny forson ok i pacchi si aprono molto bene quindi almeno questo sono attaccati sì non in questo caso forse non tutte però vediamo questa è già di meno johnny taylor alonzo morning eh von schoen leonhard già questo è un già meglio brian steve magari era solo quella di sopra preso un po' di di sole klaus questo è la shot house di reggie miller mi sa che è una per pacco questa è la checklist ecco dove è ah proprio così kobi dietro perfetto pulito vabbè il vetro non è importante questa è la carta di kobi bella però molto bella storica allora checklist aspetta finiamo qua poi almeno nel davanti si terry cummings e dale davis non si riattaccano giusto no no allora questa è la checklist allora una parte penso alla seconda parte shot out sono questi qua sicuramente potete trovare stepping out sono queste qua poi dietro hai freshman flashback pump up the jam di michael jordan e kobi rejectors tim duncan kevin garnet bams michael jordan kobi shaquille prime twine queste sono davvero top questa è la checklist la mettiamo qua sopra sopra kobi e dai beh dai kobi è il pacco 2 va bene esatto kobi l'avevano trovato tocca a michael jordan esatto magari il primo della fila così esatto eric washington si sembra metà non sono dove c'è l'inserto praticamente mi sa che sono sempre pulite abbiamo sei cali bimbo bimbo colds reggy miller o reggy ogni carta che sfogli così mi prende un piccolo infarto travis knight shotouts di adona foil abbiamo questa comunque è il dietro del show shotouts nick anderson clark kinney mark price e dennis rodman beh anche questa è anche un po' poco mi sa diciamo che l'effetto della carta ah ma sono due carte aspetto ah due carte stepping out joe smith e dennis rodman dovremmo anche contarle quante sono secondo me è probabile anche che ci siano qualche errore vediamo oh dennis rodman che stile ragazzi john starks anthony walker il mio cuore hardway antonio daniels ha traded to the spurs c'è scritto anche che si è stati stepping out the charts berkeley dunque gli inserti sono messi un po' la caso perché questo è già mi sa che le riempivano a mano all'epoca siamo qua abbiamo dana barrows shaquille non rovinata stepping out di joan hoard shout out jamal rovinata solo dietro charles smith ci sono due insieme calvin catò e walt williams allora mettiamo questa mettiamo una disparate ecco beh dai trovi l'autocrofo ti resta incollato sulla carta davanti lo sticker forse sono fatti oh c'è una carta nera c'è una carta al contrario mi sembra quella non vorrei jalen rose non è attaccata anzi tra l'altro vorrei portarmi sfiga da solo una carta strana chris whitney ron mercier o merce 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 shaquille bella figa questo è quindi stepping out quando sono fuori praticamente si e poi abbiamo per me è al contrario grant hill pump up the jam pump up the jam 3 out of 3 di 10 non so cosa non è spossato bella no questa è la carta ragazzi 3 di 10 non so cosa significa adesso un attimo facciamo quindi abbiamo un shoutout di mutumbo anche questa ottima moxie david wesley sim castle e braving knight adesso vediamo se c'è qua pump up the jam lì in mezzo pump up the jam a 3 di 10 solo per dire che è il numero 3 di 10 però non è numerato quindi così alla volta una volta si guarda la checklist non da cardconnection è molto più semplice la vita scott pollard carl malone scotti pippen stepping out che stile sono belle queste steppine sono davvero fighe è caro che non lo fanno adesso ervin johnson abbiamo shoutout di kevin garnet ah questa è la checklist invece dei autografi ok c'è michael jordan non so che non lo so tennis rodman ah no lui non non ha firmato no questo che non c'è ha firmato calvin ah c'è iverson grand hill questo è la fotografia ragazzi su belle carte anche quelle le checklist maurice taylor steven steve smith e team duncan qua non c'è un'altra anche questa è abbastanza pulita top poi come qualità cioè si ottima qualità alta per paragoni con le carte di ora si no sto fatto bene molto bene forse anche per quello che si attacca troppo bene steve nash anche questa traded to the mavericks senza graffi almeno queste che sono davanti le mettiamo da parte si si mettiamo da parte di fianco chris chiles mclevaine paul grant dan magerl magerl monty williams shot sounds di kobe senza troppi strappi ah perfetto è pulita bello ottimo ancora con i capelli c'è un po' la kobe va va serio jason kid terry the year di brown tony delk mamma mia ragazzi quanta è una sofferenza che si strappano ma questo è un blocco unico praticamente c'è un'altra check list ok jack vogue e tarik abdul abahad brian smith kat klaus scott pippen ancora mi sono andato prima ah ecco si per volare shot sounds di jason kid e stepping out di scott pippen beh questa check list qua non ci serviva questa mi sa è la stessa non dovrebbero essere più differenti è uguale si 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 è uguale stiamo qua terry cummings comunque le carte ci sono anche certe doppie mi sa che lo trovo hitlabs roley e trace mcgrady mi appunto pare andando più in basso nella pila non migliora la situazione sono tutte abbastanza questo è un blocco eric washington ronish safely steve nash reiki miller travis knythe paul grant shot out the biloops colbert chini mark price so belle comunque con la doppia foto uno in bianco e nero dietro brian grant e hubert davis anthony walker hardaway corey blount lindsey hunter qui sono tutte attaccate però si staccano danny manning rashid wallos sean camp jamal marie stellor jamal mashburn ogni volta che vedo maglie rosse iverson danny forson tim thomas è un altro inserto speciale ci vorrebbe si crosher ron merester doppione doppione si shaquille doppione ma c'è uno che è meglio si 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 infatti anthony mcgoise ah pump up the gem di anthony walker almeno è diverso dai ok not not too bad vabbè comunque psi 2 eccolo cazzarola cazzo vabbè andiamo a trovarne un altro dai michael jordan per noi vale lo stesso si grande top è germain o'neill allora dai cobi l'abbiamo trovato michael l'abbiamo trovato esatto almeno l'abbiamo trovato l'abbiamo trovato ci vorrebbe un autografo o qualche inserto proprio bam oh il gaukuskas teron hill chissà potremmo mettere tutto il pacco così attaccato dentro una sleeve e lo mettiamo via così dettler shrimp ervin johnson magari tra altri dieci anni si stacca doc christy terrell brandon l'altra parte un'altra checklist un'altra classica questa è la checklist all'inizio della checklist praticamente ecco qua abbiamo elliot perry maurice taylor poling siliam kilian silian ostertag ok siamo in più o meno metà bel autografo dai edy jones don monty williams ho trovato anche questo fateci sapere se avete mai visto un video simile a questo dove le carte sono attaccate sono attaccate ragazzi fateci sapere fateci sapere la vostra opinione su questo pacco e se dovremmo comprare altri pacchi edizioni antiche praticamente e farvi vedere la review ricordatevi che questo lo facciamo non solo per noi ma anche per voi inserito bello ed grey niente lo roderick 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 ho visto un michael jordan mi sa no si no si all'inserto si si non mi sa forse è la stessa carta di prima può essere jason williams ed anthony mcdice no però è quella staccata quindi dovrebbe essere il set ah iverson sulla pump up the jam bello eh non bet ecco qua yes ah la stessa però meglio i6 i7 schwarz house vediamo se riesco a staccare bene indietro beh dai si si molto meglio di prima si molto meglio due michael jordan attenzione beh c'è ancora spazio per farne altri esatto ok let's go autografo di michael jordan ci vorrebbe eh mi sa che è 144 punk che è molto rara geloso della sua ink un tra check list da christie team hardaway john wallace o questo è quello che abbiamo trovato l'altro giorno con l'nba oops si o la juvon mi sembra si lui era mi sa che era tipo giocatore storico un po' come la ciclista almeno quella è abbondante cioè vediamo se comunque come abbiamo fatto a trovarlo staccato quel michael jordan cioè c'è qualcuno che ci assiste assurdo qualcuno che guarda assurdo veramente quella quella non è un deserto dopo sembra di una carta differente invece sto attaccato sto attaccato ray allen damon sudmire cedric anderson lorenzen bright bobby jackson alvi grant uber davis meno male michael subito dopo la checklist non c'è la stepping out di michael mi sa di no sean camp hardaway sulla shoutouts o shoutouts houston len robinson questo è attaccato molto c'è autografato ieri ah mai no jerome williams autografato col pennello qua c'era un'altra infatti tim thomas brent barry stiamo soffrendo ragazzi pesantemente 9 8 8 10 distrutte praticamente c'è qualcosa di nero c'è il colore quello proprio ha cancellato la faccia pump up the jam di stephen marbury gary payton sulla shouts brand price adonar foil kevin garnet shak e german o'neill sembrava shak fratello ho visto solo o'neill da dietro facciamo 5 6 pacchi to go questo è un asbr praticamente parkley molto sobrio il suo outfit marbury strickland marbury poi abbiamo finley kirkettles allun houston brent boy stockholm eh ragazzi è tosta non riesco di aprirlo questo è tosta la carta pure la carta è tosta io sto guardando quel michael la larry johnson stepping out di jason williams sono difortunati si jersey ok stesse volando un pezzo mamma mia speriamo il fronte almeno non so cosa è meglio farlo quella voce farlo piano dai va bene not bad not bad top però top bello ma ce ne vuole un'altra non incollata come primo comunque cioè non fossero state incollate il pacco ewing sta dando soddisfazione così ma anthony mason abdu rahim ecco guarda qua questa è proprio andata donny allora c'è andata bene con i giocatori meno male più conosciuti lo shakila pure messo benissimo scoby va bene grant hill attenzione craig forest tim hardaway john wallace robert orry abbiamo trovato l'inserto di michael che è c'è walker quest'altro check list autografe ancora la speranza dell'autografo comunque si sa mai non sappiamo nemmeno come si presenta magari è messo lì a caso esatto tre pacchi to go no si yes ray allen chris hans t comunque l'inserto è messo più o meno in mezzo però per il resto è tutto un po' a caso stepping out davanti dietro un po' guarda quando vogliono loro scelgo questa qualcosa no anthony mason d'epione chanson nick van excellent questo voglio mettere una fine questo si l'avevano trovata grant hill ultimi due pacchi dai ragazzi autografata e via non incollate non incollate ok mercury ron harper staccaus charles barkley per la terza volta il suo mentello da re rogers finley glen robinson un attimo sembra bobby vin baker baron mackie mark jackson ultimo pacco ragazzi sono sollevato sembra che ci sia del colore speriamo che non è un shout out eccolo akim distrutto 4 di 10 no copy pump of the jam dai l'altro lato dovrebbe essere discreto come le altre dai non me lo rovinare yes si dai comunque l'abbiamo trovato tutto si eccovi qua il copitano ah social 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 è un altro michael per me buon amico mutombo basta finite si finitissime ok ragazzi allora partiamo dalle stepping out abbiamo davvero un sacco di roba grazie per chi è rimasto con noi nonostante la tortura questo è un colore differente sono uguali ma il colore è diverso è più chiara tipo scolorita anche queste qua certi sono più nuove shaquille shaquille pippen shaquille ancora denis rodman guardatelo che stile shouts queste qua sono tutte quelle che avevano trovato c'è qualche particolarità uno per pacco focalizza sul giocatore però se lo potevano pure evitare steve nash devono farlo meglio tim duncan mettiamo qua insieme queste sono le check list abbiamo allen iverson abbiamo shaquille mettiamo qua insieme poi pump up the jam marbury iverson walker grand hill abbiamo numero 3 numero 6 numero 2 numero 1 ci manca 4 e 5 mi sa che 4 è kobe 4 queste sono le carte di kobe kobe ragazzi top e 5 5 michael jordan top questa è la carta perfetta praticamente ok ragazzi allora fateci sapere cosa ne pensate di questo video lasciate un like e un commento e sottoscrivetevi al canale se volete vedere più video come questi fateci sapere quali pacchi dovremmo aprire e farvi vedere grazie per essere stati con noi grazie ragazzi alla prossima ciao guys ciao ciao